Dopo sei giorni e 711 km di strada, la carovana ciclistica Milano-Roma Touring Club Vittoria Assicurazioni è finalmente giunta nella capitale. Davanti al Quirinale, ad attendere il gruppo, c'era anche Gianni Letta, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Come si gode il paesaggio, i monumenti, le bellezze naturali, dalla bicicletta, certo non si può fare né dalla macchina, né dal treno, né dall'aereo. La velocità è nemica della riflessione e del poter gustare quello che invece della bicicletta si può gustare. La iniziativa del Touring, secondo me, assume un significato ancora più importante, perché è tesa non soltanto a riscoprire la bicicletta e a promuoverla, e questo decalogo certamente è uno strumento utile per farlo, ma anche a valorizzare le bellezze del nostro paese, a richiamare gli italiani all'amore per la natura, per il paesaggio, all'amore per le cose belle.